Musica Approvata a maggioranza la nuova legge sulle radiocomunicazioni che consiste in una serie di modifiche alla legge regionale 49 del 6 ottobre 2011. Le modifiche seguono l'adeguamento alla normativa portata in questi anni al codice delle comunicazioni elettroniche, finalizzata alla salvaguardia della salute e dell'ambiente. Soddisfazione per l'approvazione dell'atto è stata espressa dall'assessore regionale alla semplificazione, informatica e rapporti con gli enti locali e sicurezza Stefano Ciuffo. Abbiamo concluso un lavoro approfondito, lungo, che ha visto che mi involte tutte le rappresentanze consigliari, la commissione competente e un lavoro che ha anche accompagnato le sollecitazioni che immaginate bene in questo campo ci sono dal mondo delle imprese e dei gestori e dei servizi. Abbiamo cercato di cogliere a pieno lo spazio che ci viene affidato dalle competenze che spettano alla regione. Non è competenza regionale il grado di emissione delle onde elettromagnetiche, le tolleranze, questi sono provvedimenti che lo Stato provvederà in maniera innovativa a breve. Ci saranno, sono già stati annunciati innalzamenti dei limiti e delle soglie di accettabilità dei campi elettromagnetici. Ma alle regioni compete la guida e la costruzione degli strumenti idonei a garantire la qualità del servizio. La qualità è un concetto ampio che prevede la qualità della connettività, la latenza, i tempi nei quali si riesce a comunicare e a interagire con gli strumenti che l'elettronica mette oggi a disposizione. E anche il nostro compito è quello di far sì che siano al meglio evitate le sovrapposizioni che sono leggibili ormai sul nostro territorio ma su tutto il territorio nazionale. I gestori in assenza di norme hanno operato cercando di mettere a frutto le leggi del mercato, investono ripetutamente sovrapponendosi laddove il mercato ha più istanze e non coprono le aree, quelle che noi purtroppo chiamiamo aree interne, aree collinari, montane, che sono molto spesso prive di adeguata connettività. Noi abbiamo votato convintamente questa legge che va nella direzione dell'innovazione, il 5G serve all'evoluzione, serve allo sviluppo, serve allo sviluppo responsabile ai comuni viene chiesta una grande assunzione di responsabilità, la possibilità di definire nei propri territori zone idonee, zone sulle quali si possono installare o non installare delle antenne si possono fare dei percorsi di partecipazione e di informazione, quindi sia allo sviluppo, sia ovviamente alla tecnologia, sia alle nuove tecnologie a servizio della complessità dell'innovazione tecnologica dentro un quadro di grande rispetto del paesaggio toscano e soprattutto della salute dei cittadini. Per questo è fondamentale definire una legge, la Toscana si dota di una normativa innovativa all'avanguardia sotto il punto di vista nazionale e anche internazionale, devo dire che le tutele previste dalla nostra normativa sono un unicum. Dunque la Lega ieri è intervenuta anche su questa tematica e ha votato contrario a questa proposta di legge in quanto riteniamo che non ci sia stata sufficiente attenzione verso quello che sono le prerogative dei comuni perché i comuni sono i punti di riferimento centrali, c'è un tentativo di accentrare il potere della organizzazione e della messa insieme di quelle che sono le nuove normative che riguardano le antenne che rischiano di non permettere ai comuni quell'azione di equilibratura, di confronto fra le esigenze pubbliche, penso alla salute, penso ovviamente anche alla necessità che la comunicazione sia facilitata attraverso questi strumenti nelle zone periferiche con quelli che sono gli altrettanto legittimi interessi dei gestori. Riteniamo che la normativa per come è stata modificata potrebbe ampliare queste problematiche invece che risolverle. Abbiamo presentato emendamenti che non sono stati accolti e che andavano in quella direzione e quindi inevitabilmente abbiamo votato contrario. La Giunta ha presentato una proposta di legge per modificare la legge regionale 49 2011 alla luce dell'ultima direttiva che impone di fatto agli Stati membri di realizzare le infrastrutture per il 5G, cioè per l'ultima generazione di telefonini per farsi comprendere e naturalmente di servizi digitali. È una norma in chiaro scuro perché al di là di alcune semplificazioni elimina però dall'obbligo di accatastare nel catastro pubblico degli impianti i micro impianti che sono quelli in realtà che stanno riempiendo le nostre città. Basti pensare che attraverso le audizioni di Anci e d'Arpat abbiamo saputo che in Italia saranno installate nei prossimi anni oltre 100.000 antenne e in Toscana non meno di 7.000, il che vuol dire evidentemente che aumenterà il livello di inquinamento elettromagnetico che dovrà essere tenuto sotto controllo secondo il principio di prudenza che vige a livello europeo. Ci sono due elementi da contemperare e che questa legge potrebbe fare se solo fosse adeguatamente finanziata, che è ciò che abbiamo chiesto con l'ordine del giorno. Le esigenze di rafforzare tutto quello che sono l'impiantistica e le necessità che vengono da avere una rete digitale efficiente anche nelle aree periferiche, cosa di cui la Regione parla da anni ma che ancora non è riuscito a fare, abbiamo una copertura a aree grigie che ancora non sono coperte e nello stesso tempo tutelare l'ambiente da un eccesso di onde elettromagnetiche. Per fare questo serve un monitoraggio. Questa legge potrebbe andare in quella direzione, cioè riuscire a fare un monitoraggio di quello che è l'inquinamento ambientale e capire anche dove si possa fare nuovi impianti, nuove antenne, ripetitori senza però danneggiare eccessivamente l'ambiente e soprattutto calcolare quali sono i danni, anche i possibili danni per la salute umana. Questo è un altro aspetto fondamentale. Però senza dare dei soldi a questa proposta di legge non si saprà né come fare il monitoraggio e soprattutto ancora oggi mancano soldi per fare queste reti di telecomunicazioni e avere la banda larga, la fibra soprattutto per le imprese e per le aziende pubbliche, le amministrazioni e quant'altro. Quindi di nuovo si tratta di un contenitore importante ma vuoto e questo è stato il motivo della nostra astensione e il motivo per cui abbiamo fatto un ordine del giorno dove abbiamo chiesto di dare gambe economiche a questa iniziativa. Altrimenti la Toscana e soprattutto alcuni suoi territori continueranno a rimanere indietro e saranno quindi poco appetibili sia per le persone che volano lì risiedere ma anche per le aziende. Qui si crea l'ennesimo problema tra il progresso e l'ambiente perché è vero che noi si va verso il 5G, il 6G e poi va a sapere che cosa però ci sono le aree interne che rimangono sicuramente penalizzate. Qualsiasi azienda ovviamente etimologicamente vuol dire fare profitti e quindi è meno interessata a poter perseguire la copertura di tutto il territorio ma come politica, come pubblico noi dobbiamo fare in modo che questo succeda e senza danni alla popolazione perché sicuramente questo fenomeno delle radiofrequenze con tanti ripetitori potrebbe creare qualche problema di tipo sanitario quindi anche su quello dobbiamo assolutamente vigilare con attenzione. Come gruppo del Partito Democratico abbiamo approvato con convinzione questa mozione che è stata presentata inizialmente a prima firma dalla consigliere del Movimento 5 Stelle Noferi che ringraziamo anche perché ha accettato dei nostri emendamenti uno di questi evidenzia con forza e con nettezza la condanna del Consiglio regionale rispetto alla strage perpetrata dai terroristi di Amas a ottobre e al tempo stesso nell'impegnativa si mette in evidenza la necessità di una richiesta di un cessate il fuoco immediato il rilascio degli ostaggi e poi anche mettere in atto tutte le possibili azioni per la salvaguardia ovviamente della popolazione civile nella striscia di Gaza. Un cessate il fuoco immediato lo chiede la mozione che il Consiglio regionale approva all'unanimità impegnando il Governo ad attivarsi nello spirito dell'articolo 11 della Costituzione. L'atto presentato dal Movimento 5 Stelle è stato in seguito emendato dal PD nella condanna all'attacco terroristico di Amas. Serviva un testo comune, dichiarano i pentastellati. Perché le immagini di dolore e di disperazione che arrivano da quelle zone sono veramente terribili e ritenevo giusto che il Consiglio regionale della Toscana si esprimesse al riguardo. Ricordo che avevamo già approvato una mozione di condanna dei fatti del 7 di ottobre che ovviamente sono antiterroristici però nello stesso tempo era giusto dare un segnale e una presa di posizione anche su quanto sta accadendo a Gaza. Siamo oltre 30.000 morti, la maggior parte bambini, migliaia di orfani, di feriti, strutture civili distrutte. Io credo che veramente bisognerebbe trovare il coraggio di fermarsi perché a volte la pace nasce dal coraggio. Il testo incontra il parere favorevole anche delle forze di centrodestra. Il Consiglio regionale della Toscana ha unito la propria voce a chi chiede un immediato cessate il fuoco, una liberazione degli ostaggi israeliani che ancora oggi stanno tra le grinfie dei terroristi di Amas e la possibilità che arrivino a Gaza tutti gli aiuti umanitari che viva Dio da tutte le parti del mondo ci stiamo attrezzando per portare alla popolazione palestinese. Anche la Toscana quindi chiede questo e lo chiede per fortuna in maniera unanime. Italia Viva nel votare a favore fa riferimento anche alle ultime parole del Papa. Che chiede un cessate il fuoco, che chiede la capacità alla politica di negoziare, che chiede la capacità di potersi mettere a sedere e serve uno scatto ulteriore dell'Europa come soggetto in grado di mediare. Serve dare una mano a quelle popolazioni islamiche che sono riformiste, che provano a costruire anche nei loro territori una stagione di pace. Serve una stagione di pace in Medio Oriente così come serve una stagione di pace in Europa e serve un'Europa più forte in grado di costruire un punto di mediazione e di incontro. Quando muore una persona o viene violentata un'altra, non è che si tratta di israeliani o di palestinesi, si tratta comunque di persone. E quindi io credo che quando un bambino muore, come quello che sta succedendo, quando una persona viene violentata, viene uccisa o viene sequestrata, è comunque una sconfitta dell'umanità e della nostra società e di chiunque di noi ha un ruolo di carattere istituzionale. Quindi bene che dalla Toscana parta un messaggio forte. Le opere di Emilio Vedova negli spazi restaurati di Palazzo Bastoggi. L'inaugurazione della mostra Tu nell'universo, con le opere di uno dei più importanti artisti italiani del Novecento, è stata anche l'occasione per presentare i nuovi spazi espositivi del Consiglio regionale di Palazzo Bastoggi a Firenze. Sono intervenuti il Presidente del Consiglio regionale, Antonio Masseo, i curatori della mostra Giuseppe Simone Modeo e Cesare Orler e l'esperto di arte contemporanea Pasquale Giuseppe Macri. Sono davvero felice, onorato di poter inaugurare il Salone delle Feste di Palazzo Bastoggi, ristrutturato dopo tanti anni con la mostra di Emilio Vedova, uno dei più grandi artisti italiani del Novecento. Questi spazi sono davvero unici, ma questa mostra riesce a renderli ancora più belli. È davvero motivo di orgoglio per noi poter aprire alle cittadine e ai cittadini della Toscana questo spazio con una mostra di così grande valore. Tu nell'universo, perché spesso le persone di fronte all'arte contemporanea hanno timore, quasi sono respinte dall'arte contemporanea e spesso non le capiscono, purtroppo, ma perché vanno sapute a spiegare. La scelta del titolo è perché Vedova, con questi quadri che avete visto in mostra, e vedrete in mostra, spero, vuole far entrare lo spettatore, il fruttore dell'opera, all'interno del proprio lavoro, del proprio disegno che ha ideato Vedova. E per questo tu nell'universo, perché ognuno di noi, ogni fruttore, ogni persona, può venire qua ad altezza occhio. Sono state scelte la scelta curatoriale, è stata proprio quella di mettere tutti i quadri ad un'altezza che lo spettatore possa entrare all'interno dell'universo appunto che aveva ideato Vedova e quindi entrare in quel mondo che è la bellezza dell'arte di Emilio Vedova. Siamo qui per presentare Emilio Vedova, tu nell'universo. È una versione diversa rispetto a una mostra che abbiamo già proposto, che qui si arricchisce di una serie di opere che vanno a completare un percorso di un artista che ha lavorato più di 60 anni. Siamo riusciti a recuperare opere che appartengono a tutti i decenni artistici di questo straordinario pittore. Siamo in una cornice storica importante, un palazzo che ha una personalità forte, quindi riuscire poi a creare un dialogo tra un artista che nei toni cromatici, nella materia, è molto esuberante con un palazzo che ha una personalità fortissima non è facile. Credo che ce l'abbiamo fatta, abbiamo dato un taglio diverso alle solite mostre che magari si limitano a mettere i quadri in ordine cronologico, che abbiamo cercato di creare dei ponti invece tra decenni diversi per fare in modo che opere che non sono mai state esposte e messe insieme creassero dei significati nuovi. Venire a Firenze per un artista contemporaneo significa venire dove è nata l'idea del bello, del bello maschile con il David e del bello femminile con la Venere dei Botticelli. Sono i due prototipi del bello a cui noi non riusciamo a fare a meno. Pensando a una bella donna o a un bell'uomo, noi pensiamo a queste due sculture che ci hanno canonizzato. Venire con opere come queste che voi state filmando significa portare un altro bello, quindi aggiungere bello al bello. Quel bello che era un bello di imitazione di forme, di rappresentazione di grazia, diventa un bello di rappresentazione di caos, di tragedia, di illogicità, di dramma che meglio si addice alla nostra condizione esistenziale contemporanea. Tornare a Firenze per un artista di questo modo significa ricongiungere il bello dell'umanesimo e del rinascimento con il bello della nostra epoca. Grazie a tutti!